Eseguite nella giornata di martedì 1 dicembre presso il centro trasfusionale del Policlinico Riuniti di Foggia, diretto dal dottor Michele Centra, le prime due plasmaferesi per la produzione di plasma iperimmune da due donatori uomini che hanno contratto il virus e che sono stati dichiarati guariti. Il plasma iperimmune è utilizzato per i pazienti ricoverati e affetti dal Covid-19. Al momento sono stati scrinati 80 potenziali donatori, il più grande di 64 anni e il più giovane di 20 anni. La possibilità di raccogliere il plasma con rapidità ed efficacia rappresenta in questo momento storico una possibilità terapeutica interessante secondo i medici e potrebbe avere un ruolo importante nel ridurre il rischio di trasferimento in terapia intensiva.